Il 4 agosto del 2008 nasceva l'operazione Strade Sicure. Sono trascorsi ben 11 anni e oggi, come allora, la presenza dei militari su tutto il territorio nazionale si conferma una risorsa per il paese. In questi 11 anni sono state oltre 16.000 le persone arrestate ed altre 3 milioni e mezzo sottoposte a controlli. Sempre a fianco dei cittadini, tra la gente e per la gente a difesa del territorio, noi oggi vogliamo ringraziarli così. Grazie a tutti.